e bello a tutti ragazzi sono lionbyte e sono su call of daily ghost scusatemi una cosa da dirvi oggi c'è con me il creep bene si ragazzi ora vi dirò un par di cose del suo canale e di cosa sta succedendo a parte che le ho già dette no non le ha dette ti ricordi che non abbiamo caricato quel video oh giusto niente che a più presto avrò anche io un mio canale e comincerò subito a fare i video ok gossa? si qual'era il mio equipaggio? mi chiedo che fosse questo no brava si si yes andiamo verso il castello bene questa mappa l'abbiamo giocata molte volte quindi la conosciamo si allora se il tiro si ripenta non lo è ucciso allora con lo dati? no 2 cosa è successo? ok vabbè facciamo un po' di sr facciamo un po' di casino ok ragazzi quello che vi volevo dire è che non sono bravo a giocare oh uccido il mio primo con l'arma in secondaria è una capolata per questa no ragazzi se c'avevo c'avevo tre morti potevo sbloccare una cosiccia che tra un po' la vediamo per raccogliere che non è proprio sicura il suo eh si non è sicura al cento per cento però mi hanno ucciso ragazzi non sono bravissimi su questo gioco uff no come l'ho preso grande allora andiamo verso il castello ragazzi ragazzi la mia arma preferita è il cecchino è vero è vero ma mamma mia che spettacolo tu sei dentro il castello oh tu sei dentro il castello si no lo stavo cortellando guarda tu stavi è la durita del macellaio poi ce l'hai io come ad esempio mi dà un prossimo messaggio di me scusate se non stiamo parlando ho la beh questo gioco è ramosh bello si è vero però ragazzi a poco caricherò il video di Call of Duty eh non è veloce di Call of Duty Black Ops 1 è vero si ehm prima di tutto adesso non commentate perchè non lo abbiamo online perchè la Huawei a casa mia non va benissimo si se possiamo facciamo altri video però vabbè allora ma non ho il live si è ovvio ma no ma voglio vedere come mi ha acceso perchè io non c'ho il cane c'ho il cane c'ho il cane c'ha il cane lì ebbene si ragazzi il suo cane si chiama Fuffi anche se sopra l'è scritto di cricchio ma lasciate vedere bene abbiamo deciso dei nuovi no no e ciao Fuffi ah devo fare proprio il mio bambino cosa devo ammazzare una persona alle spalle ma qui te la distrago da traditore che faccio di tralface ma chi no una morte qui la morte la mia morte mi vado a svagarmi un pochettino dove è so è 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 non muore non muore non muore ma l'avrò ammazzato il cane quando muore boh e muore vieni boh muori muori no non riesco a fare il cane ragazzi mi rendete conto non sono riuscito a ammazzarlo a parte che è quasi venita a partire si è vero muore e comunque ragazzi per alcuni problemi tecnici di ultimi in ultimo minuto parleremo un po di alcune cose delle classi si delle prossime classi per i prossimi eh ovviamente scelta e fine abbiamo vinto? non lo so vorremmo lì qual'è l'ultima te la fa vedere l'ultima vittoria qui? si io io ragazzi io eccola qua il nostro e non lo so e poi lui è scivolato una buccia di banana sarà piena di buccia di banana sapone soprattutto sapone buccia di banana allora ora comincieremo a parlare di poche classi cioè no una classe del canale di Nick Rigg ti va bene? si in pratica lui come ho già detto all'inizio partita presto avrà un canale tutto suo dove farà video su appunto questi giochi si e anche su minecraft che tra pochino faremo insieme si sui server sui server Hunger Games ah comunque ragazzi lui mi ha promesso che farà Outlast Outlast no non l'ho promesso si si l'ha promesso mi scommetto che volessi dire anche Slenderman ma non voglio fare Slenderman the Hyrule no no non lo voglio fare ma che no diventa c'è allegro allegro proprio come sempre è un gioco è tutto è un gioco e guardate è un gioco allegro si molto eh proprio è bellissimo solo che non lo farò vabbè per questo video è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata da Lion Byte da Nick Rigg è tutto